Consideriamo ora la personalità del non nato dalla prospettiva filosofica. Una breve sezione su questa questione nell'encirchia Evangelium Vitae fornisce le basi per diversi argomenti per l'illecità dell'aborto. Citiamo integralmente la sezione. Alcuni tentano di giustificare l'aborto sostenendo che il frutto del concepimento, almeno fino a un certo numero di giorni, non può essere considerato una vita umana personale. In realtà, dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa evidenza di sempre, la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trovi fissato il programma di ciò che sarà questo vivente. Una persona. Questa persona individua con le sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo per impostarsi e per trovarsi pronta ad agire. Anche se la presenza di un'anima spirituale non può essere rilevata dall'osservazione di nessun dato sperimentale, sono le stesse conclusioni della scienza sull'embrione umano a fornire un'indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana. Come un individuo umano non sarebbe una persona umana? Del resto, tale è la posta in gioco che, sotto il profilo dell'obbligo morale, basterebbe la sola probabilità di trovarsi di fronte a una persona per giustificare la più netta proibizione di ogni intervento volto a sopprimere l'embrione umano. Proprio per questo, al di là dei dibattiti scientifici, delle stesse affermazioni filosofiche nelle quali il magisterio non si è espressamente impegnato, la Chiesa ha sempre insegnato e tuttora insegna che al frutto della generazione umana, dal primo momento della sua esistenza, va garantito il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità e unità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento. E pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Prima di presentare i vari argomenti uno per volta, consideriamo un punto implicito in questo passaggio, quello per cui la persona è un composto di un'anima spirituale e del corpo, un corpo animato o un'anima incarnata. Il termine persona, inteso in questo senso, è sinonimo dei termini persona umana e uomo. Più tecnicamente, nella tradizione filosofica cattolica, la persona è definita come la sostanza individuale di natura razionale, o più brevemente come un individuo razionale. Ed è la persona, intesa in questo senso più tecnico, che si dice per esempio, come nel capitolo 2, che la nozione di persona implica la nozione di dignità della persona. Procediamo ora a considerare gli argomenti filosofici per i quali l'aborto è sbagliato, a partire dalla personalità del non nato. La sezione citata fornisce tre di tali argomenti. Il primo argomento è che il non nato è una persona dal concepimento. Questo argomento è basato su fondamenti scientifici e non può essere inteso come argomento scientifico. Il secondo argomento è che il non nato sarà una persona. Questo argomento può essere chiamato argomento teologico. Il terzo argomento è che c'è una possibilità che il non nato sia una persona dal concepimento. Questo argomento può essere chiamato argomento della possibilità. Argomento scientifico. L'argomento scientifico può essere riassunto come segue. La scienza dimostra che gli aspetti caratteristici della persona sono già determinati dal concepimento. Esso indica chiaramente che c'è una presenza personale al momento del concepimento. B. L'argomento teleologico. L'argomento teleologico deriva dalle parole secondo cui la moderna scienza genetica ha dimostrato che dal primo istante è stabilito il programma di quello che sarà l'essere vivente. Una persona proprio dalla fecondazione inizia l'avventura della vita umana e ognuna delle sue capacità richiede tempo, un tempo piuttosto lungo, per trovare il suo posto ed essere nella posizione di agire. L'argomento può essere espresso come segue. In quanto l'essere umano non nato nel momento del concepimento sarà o sarà il destinato ad essere una persona, dovrebbe essere trattato con il rispetto appropriato e non distrutto. In alternativa, poiché la sezione lascia aperta la possibilità che l'essere umano non nato sia o no una persona al momento del concepimento, l'argomento può essere espresso più pienamente come segue. L'essere umano non nato al momento del concepimento o è una persona o è destinato ad essere una persona. In ogni caso, egli dovrebbe essere trattato con il rispetto dovuto a una persona e non distrutto. Nell'esprimere la possibilità che il non nato sia ancora una persona ma solo destinato a diventare persona, l'argomento teleologico tiene conto della possibilità che il non nato sia inizialmente animato da un'anima vegetativa o sensitiva, sebbene questo non sia plausibile. Veni sotto. Esso ritiene che lo stato di un tale essere non sia semplicemente lo stato di una pianta o di un animale, in quanto nel suo orientamento ricevere l'anima spirituale esso possiederebbe la dignità della vocazione all'unione con Dio, anche se solo in un grado remoto, che è stato descritto nel capitolo 2 e sulla cui sola base la sua distruzione sarebbe sbagliata. In aggiunto, essa possiederebbe di certo la dignità della vocazione alla personalità o, in altre parole, nel suo corso di sviluppo determinato dalla legge naturale e quindi anche dalla volontà di Dio, riceverebbe un'anima spirituale e quindi diventerebbe una persona con tutti i privilegi che la personalità implica. Oltretutto è chiaramente sbagliato infrangere la legge naturale e uccidere un essere che Dio vuole che riceva un'anima e quindi diventare una persona e il soggetto del diritto alla vita. L'argomento della possibilità afferma che ciò che è in gioco è così importante che la mera possibilità che il non nato sia una persona dal concepimento implica che egli debba essere rispettato e trattato come una persona e quindi non distrutto. L'argomento può essere espresso come segue. Distruggere il non nato in qualsiasi momento dopo il concepimento significa rischiare di uccidere una persona ed è quindi sbagliato. Questo argomento può essere illustrato come segue. Un capocantiere responsabile della demolizione di una casa è incerto se ci sia una persona nella casa. Ma la demolisce malgrado tutto. Si considererebbe questa azione sbagliata e la ragione sarebbe che mettere in atto una tale azione vorrebbe dire rischiare di uccidere una persona. Possibili obiezioni Consideriamo ora alcune obiezioni che possono essere fatte a tali argomenti filosofici riguardo la personalità del non nato. A. Non c'è una prova dell'esistenza dell'anima immortale. Una prima obiezione può essere che l'esistenza dell'anima spirituale, che nell'insegnamento cattolico è necessaria per l'esistenza della persona, non può in effetti essere provata. Si replica che ci sono prove dell'esistenza dell'anima spirituale nella tradizione cattolica, come la seguente. La capacità della mente di formare concetti astratti e giudizi ed essere cosciente di sé non può derivare dalla materia. Dovrebbe quindi derivare da un principio immateriale, cioè l'anima spirituale. Ci sono in aggiunta alcune considerazioni che portano ad argomentare l'esistenza dell'anima spirituale, come la concezione di fine ultimo dell'uomo discusso sopra. Dal momento che il fine ultimo dell'uomo è raggiunta nell'aldilà, allora deve esistere un'entità propria della personalità che sopravvive alla morte, cioè l'entità spirituale, l'anima spirituale. B. La teoria dell'infusione successiva dell'anima spirituale. Una seconda obiezione può essere fatta, cioè all'argomento scientifico, che l'anima spirituale venga all'esistenza dopo qualche tempo dal concepimento. Più in dettaglio, sulla base del ragionamento per cui la vita inizia dal concepimento e che l'anima è principio della vita, si obietta che la vita che viene dall'esistenza nel concepimento sia la vita non di un'anima spirituale, ma di un'anima non spirituale. La contesa è riferita al punto di vista aristotelico-scolastico, come descritto in The Fundamentals of Catholic Dogma di padre Ludwig Ott, con le seguenti parole. Nell'embrione umano si susseguono l'una, l'altra, tre differenti forme di vita in ordine di tempo, in maniera tale che la forma seguente per qualche tempo prende le funzioni della precedente, cioè la vegetativa, la sensitiva e infine la spirituale. Questa è la teoria che sostiene Sant'Ommaso d'Aquino. L'anima è nell'embrione, l'anima vegetativa dall'inizio, poi la sensitiva e infine l'anima intellettiva. Si possono offrire due considerazioni principali in supporto a questa contenzione. 1. La mancanza di complessità e di sviluppo dell'embrione. Questa considerazione fu influente in particolare per gli aristotelici-scolastici, ed effettivamente giocò un ruolo nel loro dubitare riguardo all'autenticità dell'immacolata concezione, sebbene certamente prima della proclamazione del dogma. 2. Il fenomeno dei gemelli identici. Questa considerazione è influente invece per certi pensatori contemporanei. 4. Il fenomeno dei gemelli. Oợi un luogo atti. Grazie a tutti.